Dove l'ha preso quel bio-kernel? Perché? Ha trovato qualcosa? Quel bio-kernel era stato danneggiato ma non distrutto. Così ho pensato che potevo creare un ibrido con la parte ancora utilizzabile del suo kernel. E ho provato a inserirla in un kernel standard. E? E ho installato in Clio il nuovo bio-kernel. All'inizio appena installato non ha battuto ciglio. Dopo mezz'ora l'ho trovata che si cercava le mani. Poi è riuscita ad arrivare qui da sola prescinandosi. E adesso ha impiegato un'ora e dieci minuti per applicarsi una gamba nuova. A me ci sono voluti anni per imparare a farlo. Che sta facendo? Niente, sta rubando. E lo fa in modo molto selettivo.